Ciao, sono Thomas Renda e questa è CIP per TV. Oggi andremo a illustrarvi il workout di mercoledì. La prima parte sarà formata da pesistica, quindi da weightlifting. Andremo a ricercare una ripetizione pesante di snatch. Come andremo a lavorare? Per scaldarci andremo a prendere col bilanciere, faremo tre serie, un muscle snatch, uno snatch balance e piano piano andremo ad aumentare. Come faremo? Prima serie, muscle snatch, con il bilanciere vuoto, appoggiamo dietro e andiamo a lavorare in snatch balance. Seconda serie ancora, terza serie ancora, fino a quando il nostro movimento sarà più fluido possibile. Da lì, intorno al 50% del nostro massimale, andremo a fare una ripetizione aumentando ogni serie di power snatch. Il workout di oggi sono 5 round. Il primo minuto sarà un max effort di raw, il secondo minuto sarà un max effort di power snatch, con i pesi scritti qua accanto, il terzo minuto sarà max rep di burpees e il quarto minuto sarà di riposo. Come andremo a lavorare? Lo snatch l'abbiamo già scaldato prima, il vogatore andremo a fare 10 secondi on, 30 secondi off il più veloce possibile, in modo da scaldare e attivare anche il cuore. Il terzo minuto sarà di burpees e andremo a scaldarci anche lì per tre volte. Facciamo 10 secondi on, 30 secondi off, vogatore. 10 secondi on, 30 secondi off di burpees per tre volte.